Il prossimo sabato all'imbrunire intorno alle 19.30 l'amministrazione comunale di Cosenza guidata dal sindaco Mario Chiuto consegnerà alla città e alla Calabria il planetario più imponente e innovativo d'Italia. Intanto sono già state programmate una serie di attività per il mese di aprile. Un ciclo di conferenze scientifiche e Lectio Magistralis anticiperanno infatti l'apertura a pieno regime che sarà il prossimo mese di giugno per il pubblico e da settembre per le scuole. Il planetario sarà intitolato all'astronomo cosentino rinascimentale Giovanni Battista Amico mentre la piazza antistante che è in fase di procedura d'appalto prenderà il nome dell'astrofisico Stephen Hawking. recentemente scomparso. Va sottolineato che questo avveniristico progetto per architettura e contenuti era stato pensato nel 2002 ma solo adesso vede la luce. La serata inaugurale prima e dopo il taglio del nastro sarà accompagnata da uno spettacolo di luci, musica, teatro e colori. Il sindaco Chiuto invita tutti i cosentini, i calabresi e i visitatori a partecipare a questo momento di festa collettiva che restituisce un altro pezzo di città alla vita e alla fruizione sociale. Infine per godere appieno della cerimonia di sabato si consiglia di arrivare nella zona a piedi o utilizzando il servizio specifico dell'amaco essendo l'aria inibita alle autovetture. Il ponte di Calatrava sarà un bel punto d'osservazione e per l'occasione sarà parzialmente chiuso al traffico veicolare.